Ciao Jack, come stai oggi? Sto benissimo, grazie per avermelo chiesto. Ehi, hai sentito parlare di un nuovo canale su YouTube? Angolo dei bambini, tempo di recesso. In realtà, non ho di cosa si tratta. Talmente è un canale in cui puoi coinvolgere i bambini divertendosi. Controlla il canale. Lo farò, grazie Jack. Kids' Corner sembra un bel posto per tempo di divertimento. E anche tu dovresti, non dimenticare di iscriverti anche tu. Kids' Corner. Tempo di ricreazione. Tenere occupati i bambini divertendosi. Subscribe for more videos.